Edizione speciale del podcast. Non sono neanche truccata perché appunto è un'edizione speciale. So che voi vedete il make-up ma in realtà vedete che è un filtro. Quindi sembro truccata ma non lo sono, non lo sono perché oggi non mi sono truccata in quanto non dovevo girare nulla ma si è finalmente risolto il giallo dell'estate ed è stato trovato il killer di Sharon Verzeni. Ne parliamo dopo la sigla. Rappresento le stronze, le manipolatrici, le arviste. Essere perfetta è una priorità fondamentale. Questa è la mia vita da narcisista. Benvenuti in Diva Podcast. Rieccoci in questa nuova puntata di Diva Podcast e come potete vedere con il fatto che ho abolito l'obbligo settimanale del martedì e il venerdì dicendovi, vedrete che se abolisco questi giorni finisce che poi magari faccio più puntate del podcast proprio perché se succede qualcosa mi metto subito lì e faccio subito le puntate così almeno magari riesco a farne anche di più. Ed infatti è successo proprio questo perché stamattina, ovvero per voi sarà ieri mattina perché io sto girando questo video alle 22 del giorno 30, sì del giorno 30, 22 del giorno 30 agosto e stamattina, cioè la mattina del 30 agosto che per voi è ieri mattina hanno trovato finalmente il killer di Sharon. Abbiamo parlato di Sharon anche all'interno di Diva Podcast in quanto è stato il caso più seguito di quest'estate ovvero Sharon Verzeni, una povera ragazza che è stata accoltellata a Terno d'Isola vicino a Brembate in una qualsiasi notte, cioè del 30 luglio in cui lei passeggiava tranquillamente per la strada verso mezzanotte perché lei era abituata a fare queste passeggiate notturne per dimagrire o per i cavoli suoi faceva queste passeggiate notturne a volte usciva con il fidanzato Sergio ma quella notte in particolare lei era uscita senza nemmeno avvisare il fidanzato Sergio che già dormiva e si trovava in casa a dormire durante questa passeggiata è stata tragicamente accoltellata da un uomo o donna una persona, un individuo un'entità misteriosa da non si sapeva chi fino a stamattina sono seguite delle indagini serrate sia su familiari, fidanzato sette varie che lei frequentava colleghi, amici insomma indagini ovviamente come indagati non c'era nessuno nel senso che il fidanzato non è mai stato indagato ma naturalmente è stato interrogato interrogato e rinterrogato e rinterrogato perché voi sapete che di solito quando muore una donna si va sempre un po' a ricercare la colpevolezza nei partner questo sia per gli inquirenti ma soprattutto per l'opinione pubblica che praticamente aveva già condannato questo ragazzo perché io che ho seguito il caso leggendo i vari commenti io non guardo tanto la tv ma guardo i casi più su internet quindi leggo anche i commenti le persone erano quasi tutte all'unanimità convinte che ci fosse qualcosa di strano in Sergio che Sergio è un po' taciturno che è schivo però assomiglia un po' a Danilo Restivo ho letto anche questo qualcuno che ha notato una somiglianza con Danilo Restivo queste voci intorno al fidanzato continuavano a espandersi diciamo così e però come io vi avevo detto perché raga ci ho azzeccato ci ho preso ci ho preso perché io nel video precedente andatevelo a vedere avevo analizzato bene il caso e vi avevo detto secondo me si tratta di uno sconosciuto di un pazzo anche se avevo posto ovviamente qualche dubbio che magari il pazzo si sarebbe fatto beccare subito perché è uno che fa la cazzata folle bene o male lo beccano subito quindi avevo un po' questo dubbio però avevo escluso il fidanzato avevo escluso persone conosciute come stalker come spasimanti come amanti avevo escluso tutte queste possibilità e quindi rimaneva solo lo sconosciuto anche se effettivamente il pazzo lo trovano perché il pazzo non è un come dire una persona che premedita più di tanto e che ha la lucidità per uccidere in modo calcolato ed infatti l'hanno beccato eh l'hanno beccato dopo un mese però l'hanno beccato quindi comunque avevo ragione quindi ci ho preso ci ho preso scrivetelo nei commenti la diva ci ha preso la diva ci ha preso ha indovinato l'assassino cioè non la persona ma la tipologia di assassino e quindi sì è stato un pazzo ad uccidere Sharon Verzeni italiano tecnicamente italiano ma non italiano di origine perché si tratta di un ragazzo marocchino o comunque africano non si è capito bene comunque questo ha portato ad una diatriba sul web di razzismo di opinioni contrastanti e robe varie su ovviamente gli stranieri eccetera eccetera ma anche di questo andremo un attimo a parlare apriremo una parentesi anche su questo ma andiamo a vedere andiamo a vedere cosa cosa dicono i giornali allora giornali io mi avvalgo ovviamente delle notizie del giorno 30 agosto questo è un caso fresco quindi domani cioè quando vedrete il podcast sicuramente ci saranno già notizie nuove che però io non faccio in tempo a registrare quindi oggi 30 agosto i giornali hanno riportato questo la confessione dell'assassino di Sharon non la conoscevo l'ho uccisa senza motivo Moussa non so come si pronunci Sanagre è stato arrestato perché è sospettato dell'omicidio di Sharon Verzeni ma il 30enne avrebbe subito confessato quindi sospettato ma con confessione aggiungendo di non conoscere la 33enne italiano di origini nordafricane e il 30enne ha detto ai carabinieri che non conosceva la 33enne di averla uccita nella notte tra il 29 e il 30 luglio senza motivo e di essere uscito di casa con l'intento di eliminare qualcuno infatti lui è uscito in bicicletta e così a caso ha accoltellato Sharon così proprio random e dopodiché è scappato in bicicletta infatti queste riprese sono state acquisite non molto tempo fa perché se vi ricordate nel mio video scorso non so se adesso non so che data sia uscita il mio video però penso dopo il 16 però io avevo detto che dalle videocamere non risultava forse nessuno in realtà non è proprio così ho commesso un'imprecisione in realtà c'erano in realtà non ricordo esattamente quello che ho detto comunque in realtà c'erano più persone che andavano e venivano riprese dalle videocamere tra cui un uomo in bicicletta che guidava la bicicletta contro mano su questo uomo in bicicletta si sono soffermate le indagini ma non solo su di lui perché ci sono state varie piste che che gli inquirenti di cui gli inquirenti hanno tenuto conto anche ad esempio di un pusher uno spacciatore che misteriosamente sembrava scomparso più o meno da un mese questo pusher della zona molto conosciuto che però pareva scomparso e hanno valutato piste di stalker hanno valutato varie possibilità che sono uscite nei giornali nei giorni precedenti però non ce ne frega niente perché tanto l'assassino l'hanno beccato ed era proprio insomma al tizio in bicicletta che hanno beccato grazie alla testimonianza di due marocchini e quindi sono riusciti poi tramite il modello della bici eccetera eccetera a risalire a lui e una volta che è stato portato in caserma ha subito confessato subito confessato quindi non ci ha neanche lasciato il brivido di scoprire se fosse lui o meno perché ha confessato subito e a quanto pare questo questo ragazzo trentenne ovviamente aveva disturbi psichiatrici ed episodi pregressi di violenza alla mamma e alla sorella per cui era stato già denunciato quindi qua prego apriamo la polemica ennesimo malato di mente o comunque violento che viene denunciato ma nessuno fa niente cioè le autorità non fanno niente per far sì che gli venga curato e adeguatamente trattato a livello proprio coercitivo in questi casi per evitare che potesse commettere altri reati ed è sempre così quando qualcuno ammazza qualcun altro c'è sempre uno storico quasi sempre uno storico di reati pregressi di violenze pregresse e nel caso dei maniaci sessuali di molestie pregresse anche per questo se vi ricordate nei video che avevo fatto su Bossetti vi avevo detto che il caso di Bossetti è effettivamente strano anche per il fatto che Massimo Bossetti non ha dei pregressi di molestie sessuali o di violenze mentre vedete che in questo caso Mous come cazzo si chiama ha un pregresso appunto ha un pregresso di persona violenta di persona psichiatrica che però non è stata adeguatamente aiutata e qui torniamo sempre insomma al solito problema che abbiamo qui in Italia che i pazzi girano allegramente per le nostre strade ovviamente riferendo a me ai pazzi violenti perché i pazzi non violenti liberissimi mi ci metto anch'io eccomi però quelli violenti è chiaro che meriterebbero più di altri dei trattamenti obbligatori ok che non si può arrestare una persona prima che non commetta qualcosa di grave però intanto aggressioni ce n'erano già state quindi in teoria già qualcosa si poteva fare anche da un punto di vista legale però manca proprio il supporto psicologico questo qua è stato abbandonato a se stesso e poi è successo quello che è successo è così lui è accusato infatti di omicidio aggravato dalla premeditazione perché lui aveva premeditato non tanto di uccidere Sharon ma di uccidere chiunque a caso cioè esco che faccio stasera un sabato sera adesso non so che giorno fosse esco e uccido qualcuno così random proprio random e se ci pensate è folle come cosa tra l'altro praticamente è molto simile abbiamo parlato ieri di Wade Wilson molto simile la modalità non so non credo che Wade abbia premeditato proprio di uccidere ma che magari si sia trovato nella situazione completamente fatto ma in realtà questa è ancora più folle perché comunque Wade l'ha fatto beh no perché Wade la prima era una donna con cui era andato a letto quindi vabbè ci sta un po' di più la seconda l'ha presa per strada a caso un po' come è successo a Sharon quindi più o meno siamo lì a livello di psichiatria insomma e infatti lui dice il trentenne non sarebbe legato al mondo dello spaccio e non ha tentato né una rapina né un approccio sessuale l'ho vista e l'ho uccisa così un omicidio feroce quanto insensato nessun movente nessun perché Sharon Verzeni era nel posto sbagliato nel momento sbagliato ha commentato con amarezza la procuratrice aggiunta di Bergamo Maria Cristina Rota dopo il fermo dell'assassino Reo Confesso che in casa aveva una sagoma di cartone per esercitarsi a lanciare coltelli ad un mese esatto dalla morte della trentatrenne l'uomo in bicicletta l'aveva raggiunta l'ha presa per il collo e le ha dato una prima coltellata all'esterno per poi infierire con altre tre lasciandola agonizzante solo al tempo di una telefonata mi ha coltellato e poi è morta dopo poco l'arma del delitto è stata seppellita a Medo Lago vicino al fiume Add mentre gli altri tre coltelli e i vestiti sporchi di sangue li ha gettati nel sacchetto nel fiume recuperato dai sommozzatori è uscito di casa con quattro coltelli e quindi gli è stata contestata la premeditazione l'obiettivo era evidente voleva colpire qualcuno non c'è nessun modente religioso né terroristico nulla di tutto ciò come dicevo prima si è creata una mega polemica per il fatto che i giornali stamattina abbiano più volte riportato vicino al nome dell'assassino il fatto che sia italiano di fatto sarebbe italiano perché è nato in Italia quindi se una persona nasce in Italia sul territorio italiano seppur nata da una famiglia africana marocchina quello che è o di qualsiasi nazionalità quella persona è italiana di fatto però faceva un po' ridere vedere i titoli di giornali con scritto mousse sanagre l'italiano che cioè è italiano fa sorridere perché vabbè c'è da dire una cosa io vabbè io non mi non mi ritengo razzista assolutamente però penso che per noi italiani sia veramente difficile come popolo accettare l'arrivo degli stranieri anche perché nella nostra cultura loro non sono mai non hanno mai fatto parte delle nostre radici come ad esempio non lo so in america hanno sempre fatto parte della cultura americana e sono proprio nati lì come anche in francia se non erro e sicuramente anche in altri paesi del mondo quindi non è strano pensare a un americano nero o un francese nero cioè normale mentre invece pensare a un italiano nero fa strano perché noi come popolo non li abbiamo mai avuti gli extracomunitari finché pian piano non sono cominciati ad arrivare esempio per noi millennials è stato un po' scioccante infatti io mi ricordo che quando ero ragazzina c'era molto 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 più razzismo di ora perché l'idea anzi anche io ero un po' razzista all'epoca mi ricordo bene perché l'idea il fatto che l'idea che questi stranieri arrivassero in Italia si mischiassero tra di noi cioè era una cosa stranissima era come se altri popoli stessero invadendo la nostra Italia ad esempio quando io ero piccola che andavo a scuola erano tutti italiani mentre adesso ho dei miei vari miei coetanei che hanno dei figli e dicono che a scuola sono tutti misti cioè l'etnia è mista mentre invece noi millennial eravamo solo italiani quindi per noi è stato difficile comunque accettare l'arrivo degli stranieri poi il razzismo chiaramente è frutto dell'ignoranza ma non ignoranza in senso di essere stupidi di essere poco colti sicuramente sia anche una questione di cultura ma perché proprio nella nostra cultura è sempre mancata l'accettazione dello straniero nella nostra cultura italiana magari differentemente da altri paesi e quindi per noi è sempre stato molto difficile e al giorno d'oggi chiaramente questo questo continuo al giorno d'oggi gli stranieri continuano a non essere pienamente accettati e sicuramente il fatto che alcuni di loro commettano reati non fa sì che vengano ben integrati nella nostra cultura nel nostro paese certo poi sarebbe da fare una statistica di quanti delitti sono stati commessi da stranieri e quanti da italiani chiaramente tenendo conto delle proporzioni naturalmente perché ovviamente essendoci più italiani ovvio per statistica ci saranno più delitti di italiani però sarebbe non so se è mai stato fatto questo però per essere certi che davvero loro commettono più crimini di noi bisognerebbe appunto fare una statistica reale però c'è qualcosa di ancora più interessante che riguarda insomma il nostro mouse ditemi come si pronuncia ovvero che il ragazzo è o è stato quantomeno un aspirante rapper è stato un aspirante rapper e ha addirittura collaborato con alcuni rapper famosi nello specifico ha collaborato ad una canzone del rapper Ernia una canzone del rapper Ernia Fit un altro rapper di nome Izzy che però non so chi sia Ernia ce l'ho più o meno presente ma Izzy non ho idea di chi sia scoperto stasera dell'esistenza di Izzy hanno fatto una canzone insieme che si intitola Fenomeno all'interno di questa canzone c'è il cantato il ritornello diciamo cantato da Mose ovvero il killer di Sharon Verzeni la canzone si intitola Fenomeno e non so non credo che appaia all'interno del video musicale ma da quello che ho capito da quello che c'è scritto nei credits fa tipo i cori del ritornello quindi canta nel nel ritornello aveva davanti una carriera so che voleva anche partecipare a X Factor racconta un ragazzo che lo conosceva di vista Mossa Sangare forse fino ad ora ho letto ho detto Sanagre vabbè scusate ragazzi Sangare l'assassinore ho confesso anni fa aveva infatti collaborato con i rapper Izzy edernia il suo nome d'arte era Moses Sangare nella sua pagina facebook che conta 700 follower si vedono gli scatti con alcuni artisti e alcune prove dell'aspirante cantante in video amatoriali regia vediamo se trovi questo profilo facebook fa vedere qui qualcosa di lui nel 2016 erano usciti scusa di Izzy con 14 milioni di visualizzazioni su youtube dove l'assassino viene accreditato come featuring collaborazione musicale e fenomeno di ernia 4 milioni di visualizzazioni su youtube che duettava con lo stesso Izzy in quest'ultimo brano a Sangare era assegnato un ritornello e appariva con il nome d'arte di Moses nel video di scusa il 31enne compare anche in volto mentre scorrono le immagini del videoclip regia trovalo perché io non ho visto il video di fenomeno l'ho visto ma non ho visto il video di scusa di Izzy quindi troviamo la faccia di Moses preferisco chiamarlo Moses che musse 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 che non si capisce da adesso lo chiamo Moses che è più facile io però prima mi sono guardata il video di fenomeno e ho trovato questi commenti che adesso leggiamo insieme questa canzone ha fatto view solo per un serial killer ovviamente con sotto tutte le risposte che non è vero non è vero nel senso che aveva già 4 milioni di visual su youtube mi vengono i brividi a pensare che colui che ha collaborato con Ernie e Izzy in questo pezzo ora sia un killer è fuori di testa sta cosa dice un altro utente aveva pure le carte in regola per diventare big e magari sarebbe andata diversamente un altro utente dice sentire sta canzone ora fa venire i brividi ma non quelli positivi ah eccolo qua ho cercato ho cercato su youtube su google sono sul video di youtube scusate ma su questo telefono non ho l'app perché quello principale lo sto usando per girare il video e c'è proprio sì sì proprio il titolo Izzy scusa featuring Moses Sangare sempre se si pronuncia così tra l'altro e i commenti ammetto che sono qui in attesa dei commenti futuri dice un utente con sotto le risposte eccoci ecco ecco eccomi idem sono scioccata non ci posso credere poi chi qua per il tg penso che ora sia effettivamente tardi per chiedere scusa Moses mi vengono i brividi a scoprire che l'assassino di Terno d'Isola ha collaborato a questa canzone il destino è strano terribile sembra quasi che il ritornello sia stato scritto anni prima proprio per lui in ogni caso Izzy è un grande che vorrei fosse conosciuto di più siete tutti qui per un motivo tutti qui dopo la tragedia qui dopo Sharon non riuscirò più a sentire questa canzone così come prima la vita è proprio strana qualsiasi persona può rivelarsi tutt'altro quasi verosimilmente Diego se stai leggendo questo commento possiamo capire quanto tu ti senta amareggiato this is the life Diego deduco che sia Izzy ascolto Izzy da tantissimi anni amavo questa canzone mentre mangiavo ho scoperto cosa è successo e sono venuta qui a risentirmi questa traccia che brutta cosa comunque Izzy sei un grande una delle migliori canzoni dell'album mi è sempre piaciuta vedere queste notizie in tv mi ha spezzato il cuore un'artista promettente che avrebbe potuto fare molto ora questa canzone genererà un tipo di brividi diversi il bro ha anticipato le scuse è bello che qua mi esce un commento di due anni fa che dice una poesia che ancora oggi dopo sei anni riesce a farmi venire i brividi e ad oggi ancora di più fa venire i brividi allora andiamo a leggere il ritornello scusa come ho fatto a lasciarti andare fa male fa male che stupido starci a pensare fa male scusa certe cose non sono bravo a dirle ho fatto un casino e non so come uscirne è difficile parlarne a soffrirne tu vivi di emozioni e scintille ora non so quale sia la strofa cantata da Moses però credo sia una di queste insomma scusa se la mia vita è scritta male e sbaglio sempre sul finale ancora scusa 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 in realtà tra i compositori non c'è Moses quindi penso che lui abbia solo cantato però effettivamente è tutto molto creepy e quindi niente ragazzi con questo brivido io vi vi lascio in attesa di novità riguardo a questa bruttissima storia riguardo alle condizioni magari psichiatriche di Moses così potremmo magari farci anche un'idea e fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti di questo risvolto che ha coinvolto anche queste canzoni insomma con questi rapper e fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci vediamo alla prossima puntata di Diva Podcast di Diva Podcast